Si sono disputate questa mattina con partenze arrivo a Vertova la terza edizione dei 10.000 sul Serio e la quarta edizione della mezza maratona sul Serio, gare di corsa su strada organizzate dalla Recastello di Gazzaniga e che hanno toccato il territorio dei cinque comuni della media valle seriana, oltre a Vertova, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga e Cine. Sono stati circa 400 complessivamente gli atleti che hanno partecipato alle due manifestazioni. Nella gara dei 10 chilometri, scattata alle 9.30, in campo maschile si è imposto il marocchino Halim Rabai dell'US milanese che ha fermato il cronometro sul tempo di 32 minuti e 46 secondi. Dietro a lui, staccato di soli 7 secondi, il 22enne del Gava Vertova, Mattia Bonomi. Terzo posto a 21 secondi per il primo degli atleti master, Franco Zanotti dei Runners Bergamo. Da segnalare anche il quarto posto di Paolo Poli della Recastello. Tra le donne la vittoria è andata alla 25enne bresciana Sara Bottarelli della Free Zone che ha corso in 36 minuti e 38 secondi. Seconda a 44 secondi l'atleta di punta della Recastello, Samantha Galassi, che l'anno scorso si era imposta sulla distanza della mezza maratona. Terzo posto per la prima delle master, Barbara Corsini, che ha preceduto due atleti bergamaschi, Catiuscia Nozzabielli e Rita Lilia Quadri. Nella gara sulla distanza doppia, i 21 chilometri e 97 metri della mezza maratona hanno brillato gli atleti bergamaschi. Tra gli uomini ha vinto da autorità Giovanni Gualdi, tesserato per la società Camuna Corrin Time. Ha fermato il cronometro sul tempo di 1 ora 7 minuti e 10. Gualdi ha staccato il gruppetto degli avversari più temibili poco prima dell'inizio del secondo giro e ha concluso con un vantaggio di 29 secondi sul marocchino Lassen Mokraji dei Runners Valseriana. Terzo posto a 36 secondi dal vincitore per un altro atleta marocchino, Ahmed Nasef. A ridosso del podio hanno poi concluso il bresciano Alessandro Rambaldini, portacolori dell'Atletica Valli Bergamaschi di Leffe, e il giovane bergamasco Omar Guernicche, che difende i colori della Sandrocchino Brescia. Al sesto e al nono posto due atleti della Re Castello, Rolando Piana e Danilo Bosio. Tra le donne, dominio assoluto della bergamasca Eliana Patelli, che aveva già vinto le edizioni 2012 e 2013 di questa corsa. L'atleta tesserata per la Valle Brembana ha fermato il cronometro sul tempo di un'ora 20 minuti e 30, precedendo di ben 4 minuti e 24 la bergamasca Nives Carobbio dei Runners Bergamo. Terzo posto per la reggiana Daniela Ferrabuschi. Tra le prime dieci, altre tre atlete di società bergamasche, Ilaria Bianchi della Re Castello, quarta, Luisa Gelmi del Gavverto Vassesta e Simone Inverti della Re Castello, decima. La gara è andata abbastanza bene, a parte che è stato un inconvenio alla partenza, che siamo partiti tardi, però sono riuscito a recuperare piano piano, in progressione. Ci sono andato un po' con due o tre atleti fino al sesto chilometro e poi mi sono staccato dal gruppo. Ho preso il mio ritmo e è andata abbastanza bene. Prima e seconda, come è andata? Beh, benissimo, quando si vince non si può dire diversamente. Stavo bene e ho fatto una gara in progressione e ho finito aumentando, quindi sono contenta, ha belle sensazioni. Una bella gara? Sì, mi è piaciuta. A parte che gli ultimi chilometri non passavano più, ma probabilmente perché ero un po' affaticata, però bella, poi piena di pubblico che applaudiva, che faceva il tifo, quindi bella, emozionante. Patelli, la vincitrice, il commento? Beh, ho deciso all'ultimo di venire qua, dovevo andare in Svizzera a fare una gara, poi per problemi organizzativi ho deciso di correre in casa, devo fare un allenamento e arrivo dalla maratola di Taipei, quindi sto iniziando a fare riti e sono molto molto felice perché non pensavo, è stato l'anno in cui l'ho partita di meno, pensavo invece al contrario di partirla di più, solo il freddo, perché veramente oggi fa, nonostante il sole, fa veramente freddo. È un percorso molto allenante, finalmente a Bergamo, un percorso protetto dalle macchine, grande Recastello che è riuscita di nuovo a organizzare una bella gara. Trovo lo spostamento di Traverto e Gattiniga forse un po' più favorevole, nel senso che si deve fare meno salita la prima parte, visto che è comunque un percorso che aiuta tanto nei prossimi allenamenti, verrà utile. Qualdi, com'è andata? Bene, bene, sono proprio contento, non pensavo di avere questa gamba oggi, niente, una bella soddisfazione, una bella sensazione, in vista di tra due settimane correre la maratona di Padova, per cui, niente, sono proprio contento, non pensavo di andare così, di avere una gamba così bella veloce, niente, un percorso abbastanza collinare, quello che tengo a dire è un'organizzazione bellissima, si conferma comunque una mezza maratona partecipata, niente, il tempo è stato la nostra, era ottimo oggi per correre, ringrazio le persone che sono state sul percorso, c'era un tifo immenso, niente, sono proprio contento.